Ciao a tutti! Oggi parleremo delle prossime previsioni meteorologiche per l'Italia. Prima di iniziare il video, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Grazie! Secondo le ultime previsioni meteorologiche, l'Italia si prepara a un ritorno delle condizioni più calde e stabili. Anche se per maggio sono attese piogge nel medio e lungo termine, non possiamo escludere sorprese estive. Il meteorologo suggerisce di rimanere preparati per variazioni improvvise e cambiamenti nelle condizioni atmosferiche. Dopo metà maggio, si prevede un'espansione significativa dell'anticiclone nordafricano sul Mediterraneo centrale, interessando direttamente il sud Italia. Questo segnerà l'inizio di un periodo estivo per le regioni meridionali, caratterizzato da stabilità e sole. Le temperature potrebbero superare i 35 gradi, con la prima ondata di caldo vero e proprio. Inoltre, sono attese condizioni di vento leggero proveniente da est, che potrebbero accentuare la sensazione di calore nelle zone più colpite. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche italiane. E ora senza indugiare vi aggiorneremo nei prossimi giorni. Le nostre previsioni più dettagliate. Grazie!